Che differenza c'è tra narratore e autore? L'autore è colui che scrive il testo. Il narratore è colui che racconta. Non necessariamente le due figure devono coincidere. Il narratore potrebbe essere anche un personaggio inventato, un personaggio che non esiste. Io come autore posso decidere di far raccontare la mia storia ad un personaggio non reale. Posso decidere di far raccontare il tutto ad un animale, a una fata, a una strega. Posso dare il compito di raccontare la mia storia ad un personaggio fittizio, inventato, non reale. L'autore è reale. Deve essere qualcuno che scrive realmente la storia. Il narratore può essere interno, esterno. Ci sono diverse tipologie di narratori. Vedremo nei prossimi video le differenze delle diverse tipologie di narratori. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.